Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, sabato 19 ottobre. Sottopasso dell'ospedale, quello che porta al cavallo, quello che sembra essere abbandonato a se stesso ormai da anni. Per la prossima settimana è previsto l'avvio dell'intervento che dovrebbe appianare le criticità attuali, quali gli allagamenti ripetuti. Il sottopasso è incluso nel percorso della ciclovia Vento, Venezia-Torino, un motivo in più per renderlo più ordinato e meno disagevole, rende noto l'assessore Mancin, comunicando che si andrà quindi a impermeabilizzare la zona. Un passaggio importantissimo, afferma il sindaco Armerau, che un paio di settimane fa ha festeggiato l'inizio del mandato, 4 ottobre 2021. Vari gli interventi previsti che sono stati progettati per bloccare le eventuali infiltrazioni d'acqua. Altri sono invece necessari per rendere nuovamente decorosa l'area, quali la pulitura e dipintura di soffitto e pareti, con una pittura speciale antigraffito e la rimozione del verde indesiderato lungo il percorso ciclopedonale. Costo dell'intervento circa 150.000 euro, durata dello stesso circa tre mesi. Ci fa piacere che finalmente si sia saputo attraverso la conferenza stampa di proclamazione del vincitore della segna 85esima edizione della Saga del Pesce. Facciamo un applauso alla sciabica come facciamo un applauso a tutti coloro che hanno partecipato all'edizione, un applauso agli organizzatori, insomma a tutti quelli che hanno operato. Ciò non toglie che comunque, come ho già detto in tempi non sospetti, questo format, a mio modesto parere, è da cambiare. Dopo 85 anni, nonostante che ci siano state fatte alcune modifiche a regolamento, sia con l'amministrazione 5 Stelle che all'inizio con questa amministrazione, io credo che sia ora il tempo di rivedere il tutto e di pensare appunto a un format diverso. Serve un'organizzazione che non può essere data in mano agli uffici comunali, ma bensì deve essere gestita da una specie di comitato, da una realtà, un ente superiore che possa organizzare al meglio il tutto. Quest'anno siamo stati fortunati perché al photo finish si è salvata a Sagra, perché ci sono state varie situazioni controverse e quant'altro che hanno creato dei rallentamenti importanti, dico un rischio che non si potesse anche svolgere, nonostante si sia riusciti, però con delle difficoltà, tant'è che qualche stand non ha anche partecipato. Eccellenze, diciamo così, meraviglie, eccellenze di manifestazioni in Italia e non vedo per quale motivo questa non possa diventare veramente qualcosa di importante, con format importantissimi. Deve essere cambiato il regolamento e lo dico da tempi non sospetti, è il terzo anno che chiedo di rivedere il regolamento, senza voler fare torta a nessuno, ma credo che sia doveroso metterci le mani, perché una manifestazione che da 85 anni va avanti sempre con questo tran tran, ma credo che abbia per forza di cose necessità di essere rivista. Bisogna allargare, bisogna aprire al privato, bisogna aprire anche agli sponsor soprattutto, quegli sponsor che già tempo fa, tanti anni fa partecipavano e che poi dopo via via non l'hanno più fatto. Per creare veramente la funzionalità, l'importanza della Sagra del Pesce è facendola decollare nel vero senso della parola e soprattutto facendo in modo che sia coinvolta tutta la città, non solo gli stendisti, ma l'intera città e dunque intendo la città le categorie stesse, dai commercianti, piuttosto che dagli artigiani, piuttosto che da tutti coloro che possono entrare a far parte di questo circuito e facendola diventare veramente qualche cosa, di importante, di un fiore all'occhiero non solo per la nostra città, per il nostro territorio del Veneto, ma soprattutto a livello nazionale e soprattutto a livello internazionale. Buongiorno, Roberto Piccerato, presidente di Ioda, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabrock.it Sembrava che la questione del mercato ortofrutticolo dovesse essere discussa in Consiglio Comunale a fine mese, tanto che era stata proposta una nuova commissione dal consigliere dell'opposizione Lucio Tiozzo a riguardo. Il Consiglio è stato anticipato al prossimo lunedì, 21 luglio, nonostante l'urgenza con cui è stata richiesta, la commissione non avrà modo di svolgersi in tempi utili. In commissione si sarebbe chiesto di conoscere il piano di gestione del mercato ortofrutticolo proposto da SST e di essere informati sull'opinione delle organizzazioni sindacali agricole del territorio sulla visione del mercato. Nel frattempo, l'amministratore unico del mercato ortofrutticolo, Giuseppe Boscolo Palo, ci informa che il Consorzio Agrario, che ora ha la sua sede al mercato ortofrutticolo di Brondolo, si trasferirà al mercato di Rosolina. Palo afferma che il giorno 21, durante il Consiglio Comunale, sarà deliberata la gestione pubblica del mercato ortofrutticolo, escludendo la parte privata e mettendo a dura prova l'esistenza stessa del comparto ortofrutticolo, facendo decadere di fatto la tutela delle piccole e medie aziende che il mercato attuale ha esercitato. Un impoverimento del territorio, afferma Palo, al pari dell'eventuale perdita della Facoltà di Biologia Marina dell'Università di Padova, che si sta paventando in questi ultimi giorni. Si chiede, Palo, preoccupato per gli scenari che si prospettano, cosa pensano della situazione che si sta venendo a creare e della volontà di affidare a SST la gestione del mercato ortofrutticolo di Brondolo, la Coldiretti, la CIA, Confagricoltura. Ci si chiede quanto abbiano influito le prospettive future, forse non così radiose, nella scelta del consorzio agrario di cambiare la propria sede, facendo perdere al mercato un bel profitto derivante dall'affitto dell'area. Sarà così facile, come ha supposto il sindaco, trovare qualcun altro che prende in affitto i locali lasciati liberi o mantenere le aziende presenti, sempre che sia ciò che ci si auspica. Chi si sta stracciando le vesti per il cambio di gestione del mercato, non sentiamo muoversi i picchetti, scaldare i motori di trattori, non vediamo bandiere che stiano cominciando a sventolare per far sentire un dissenso, ma forse un dissenso non c'è. Lo scopo del mercato orticolo fino ad ora è stata la tutela delle piccole e medie imprese che qua hanno continuato a conferire il prodotto dei nostri orti, principalmente radicchio. SST avrà la stessa attenzione o le stesse competenze. Stanno emergendo nel mondo agricolo veneto problematiche importanti che si stanno espandendo a macchia d'olio. Le parole caporalato e agromafie fino a qualche tempo fa non rientravano nel dizionario dei nostri orticoltori, ma si tratta di altri scenari che stanno aprendosi. La risalita del cuneo salino è invece un termine che tutti gli orticoltori conoscono bene, un problema vitale che stanno affrontando i coltivatori che temono l'eccessiva salinizazione del terreno, la perdita di fertilità e la conseguente incapacità di produrre. Certo è che le sfide che dovranno affrontare in futuro i piccoli e medi coltivatori, anche quelle di Chioggia, saranno più incisive di quelle vissute fino ad ora. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Finalmente l'Università di Padova lancia una campagna sui social per contrastare la disinformazione, utilizzando linguaggi semplici per spiegare concetti scientifici. Il Dipartimento di Scienze Biomediche, composte su Instagram, Facebook e presto TikTok, diffonde pillole di scienza quotidiana per avvicinare il pubblico ai temi della salute e della medicina. A capo del progetto c'è Antonella Viola, professoressa ordinaria di patologia generale, che sottolinea l'importanza di fornire informazioni affidabili in un contesto sempre più dominato dalle fake news. Post semplici ma con contenuti di qualità. Curiosità come perché vengono i campi muscolari, esistono animali mortali, o cosa sono le rughe, sono alcuni dei temi trattati dal team di scienziati attraverso brevi video o schede informative. Tra i contenuti, interventi come quello del professor Rosario Rizzuto, ex rettore dell'Ateneo, che ha discusso il Nobel per la medicina 2024, o della professoressa Viola, che ha approfondito il legame tra sistema immunitario e invecchiamento. L'obiettivo è rendere la scienza accessibile anche a chi non fa parte della comunità accademica, utilizzando un linguaggio chiaro e immediato. Creare consapoverezza scientifica attraverso i social. Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova si propone di diventare un punto di riferimento per chi cerca informazioni attendibili nel campo della scienza e della medicina. Come afferma la professoressa Viola, vogliamo appassionare le persone alla scienza e comunicare le scoperte dei nostri ricercatori, arrivando anche a chi non è all'interno della comunità scientifica. A Fenergia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso o prezzo variabile, telefonina, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre volette a una commissione ricotta di 1 euro e tretta. Anche in lungomare le strade sono dissestate, ma non ci sono soltanto i tratti che andranno scarificati e asfaltati seguendo il piano asfalti, in quanto si trovano in condizioni pietose, ma sono da rivedere anche i rivestimenti di alcuni passaggi pedonali. Quasi tutti quelli rialzati che vanno dal monumento al marinaio, sul boulevard, alla tavernetta, sono danneggiati in modo importante con piastrelle spezzate. Si tratta di piastrelle decorative più sottili dei masegni che abbiamo in centro storico o dei blocchi di porfido. I bordi sono quindi più taglienti e possono provocare danni ai veicoli che transitano. Probabilmente il danno sulle piastrelle è provocato dal frequente passaggio dei tir che provengono dal mercato ittico di Chioggia. Non per prenderli sempre di mira come capro espiatorio, ma perché sono quelli che passano con notevole frequenza. Gli asfalti, in via di rifacimento, in alcuni tratti, a macchia di leopardo, in altre aree, al momento sono a mo' di groviera, pieni di buche più o meno fonde, più o meno pericolose per chi transita sulle due ruote. Un nostro follower ci ha comunicato di aver preso una buca particolarmente insidiosa a bordo del suo scooter. A causa dell'urto ha distrutto il cerchione e ha dovuto sborsare 150 euro per la riparazione. Volendo, avrebbe potuto rivalersi nei confronti del comune chiamando le autorità sul posto dopo l'impatto per verbalizzare quanto accaduto. Le probabili lungaggini lo hanno però fatto desistere. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ricordandovi che la farmacia è di turno oggi, sabato 19 ottobre, e la farmacia a Lido in Viale Padova Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio e la cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni dove sono già arrivate agende e calendari 2025. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it, i canali telegram e whatsapp azzurra network news, il canale youtube chioggiazzurra, la nuovissima app chioggiazzurra e la pagina facebook chioggiazzurra. Ciao a tutti e continuate a seguirci.